Musica Mal tempo in tutta la regione, neve, gelo e raffiche di vento forte ancora per qualche ora. Sala Consilina, questa mattina il convegno sulla pace fiscale, esperti relatori hanno illustrato le modalità di accesso. Guardia di Finanza di Salerno, immobili occupati da extracomunitari, alcuni senza permesso di soggiorno. Provincia di Salerno, si è insediato il nuovo consiglio dai banchi della maggioranza e dell'opposizione la richiesta di azioni concrete e incisive. Buon abitacolo, il carnevale si farà, parte domani e poi prosegue il 3, 5 e 10 marzo. Ben trovati al nostro telegiornale, partiamo con il mal tempo che sta interessando tutta la regione. Freddo, pungente, raffiche di vento forte e nevicate, scuole chiuse e alcuni disagi in diversi comuni del Salernitano. Vediamo. Freddo, pungente, raffiche di vento forte stanno accompagnando la nevicata di queste ore, che però non è magica come la prima dell'anno, soprattutto se arriva dopo un accenno di primavera. Eravamo comunque preparati, lo aveva annunciato per tempo la protezione civile regionale, che la nuova ondata di mal tempo sarebbe arrivata dalla Russia attraverso i Balcani e avrebbe portato con sé neve, gelo e forti venti. L'alerta è scattata dalla mezzanotte di ieri e durerà per le prossime ore, che continueranno ad essere caratterizzate da un significativo abbassamento generalizzato delle temperature nevicate e gelate in tutta la regione. La nevicata non è stata intensa, ma alcuni sindaci del Salernitano, dopo l'avviso di criticità di Ramato, hanno deciso di non correre rischi e tenere chiuse le scuole per oggi. Nei comprensori del Vallo di Diano, Sere e Tanagro, niente lezioni a Padula, Teggiano, Colliano, Buccino e Caggiano, sono i comuni di solito maggiormente interessati dalle precipitazioni nevose e i cui centri storici, dove spesso si trovano i plessi scolastici, risultano difficili da raggiungere in caso di neve e gelo. Disaggi non gravi anche sulle strade principali, in particolare sulla Bussentina, dove nei pressi di Sansa la strada ghiacciata ha creato qualche problema agli automobilisti in transito. Non ci sono stati danni di rilievo, solo qualche segnalazione di auto in difficoltà in quella zona e di caduta a alberi, invece, tra eboli e battipaglia. Occorre prudenza e seguire consigli della protezione civile ancora per qualche ora. Ritorneranno presto le temperature miti, l'ondata artica dovrebbe infatti essere solo una parentesi. La prossima settimana l'anticiclone riporterà stabilità ovunque, con temperature ben sopra la media. Doveva tenersi questa mattina l'incontro di presentazione dei nuovi bandi del Galvallo di Viano. Il presidente Attilio Romano ha però deciso di rinviare l'incontro a data da destinarsi, vista l'impossibilità per i referenti della regione di raggiungere Padula a causa del maltempo. Nei prossimi giorni sarà quindi comunicata la data per il convegno dedicato ai bandi delle tipologie di intervento 411 e 641, per i quali il Gal ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 800 mila euro. A causa del maltempo di queste ore è stata rinviata anche la presentazione del progetto La Guara, negozio eco e solo locale dell'associazione La Rosa di Gerico che doveva tenersi questo pomeriggio. Dopo la felice esperienza del Tecchete Damme, un ideale divenuto realtà con la bottega di Casanna, propongono a Sala Consilina un'altra iniziativa basata sempre su una nuova idea di commercio. La Guara sarà infatti uno spazio espositivo condiviso dove produttori e artigiani potranno promuovere e vendere i frutti del loro lavoro, condividendo però i principi e i valori del progetto. La presentazione non sarà oggi pomeriggio dunque come annunciato, ma la data è rinviata nei prossimi giorni e sarà comunicata dall'associazione. Andiamo avanti. Il Polo Culturale Cappuccini a Sala Consilina ha ospitato questa mattina un convegno dedicato alla pace fiscale. Approfittando della presenza di illustri relatori è stato spiegato nel dettaglio chi può accedere e come al beneficio che per il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Sala Consilina, Nunzio Ritorto, è molto più efficace della rottamazione, rendendo molto più agevole il saldo del debito con lo Stato. Vediamo. La pace fiscale è tema protagonista dell'incontro svoltosi questa mattina a Sala Consilina presso il Polo Culturale Cappuccini. L'incontro, moderato dal giornalista e giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Pietro Cusati, è stato organizzato dall'associazione Artis, rappresentata da Michela Lobosco, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina del Presidente, Nunzio Ritorto, e con il Comune di Sala Consilina, rappresentato dal Sindaco Francesco Cavallone. Un incontro voluto per illustrare ai contribuenti e professionisti come usufruire delle agevolazioni previste dal nuovo beneficio introdotto dalla legge di bilancio, che aiuta il contribuente nel versamento di quanto dovuto. Agevolazioni, che secondo quanto evidenziato dal Presidente dell'Ordine di Sala Consilina, Nunzio Ritorto, nel suo breve saluto, possono essere più incisive rispetto alla precedente disposizione della rottamazione, che pur riducendo l'importo di interessi e sanzioni, non metteva comunque il contribuente nella condizione ottimale per poter saldare il debito con lo Stato. Nunzio Ritorto ha sottolineato come troppo spesso il contribuente non paga le tasse non per cattiva volontà o con la finalità di evadere, bensì perché impossibilitato economicamente a saldare il debito. La precedente rottamazione chiedeva un saldo delle cartelle pregresse con un cumulo che rendeva il debito particolarmente oneroso ed è a pagare entro pochi mesi dalla richiesta. Per il Presidente dell'Ordine il nuovo beneficio è molto più efficace, anche perché prevede diverse soluzioni a cui il contribuente può accedere. Ed è proprio per illustrare le varie opzioni e anche per spiegare chi e come può accedere al beneficio che questa mattina gli organizzatori hanno promosso l'incontro portando a Sala Consilina illustri ed esperti relatori che hanno spiegato nel dettaglio in cosa consiste la pace fiscale. A relazionare sul tema il Dottor Giuseppe Buonadonna, docente di diritto tributario presso l'Unisà, Maria Stella Ambrasi, consulente di lavoro, Gianluca Timpone, revisore contabile e autore del libro Dammi Tregua e Giovanni Borgio, consigliere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno. Passiamo ora alla cronaca maxi operazione della Guardia di Finanza di Salerno che nell'ambito dei controlli sul territorio ha scoperto diversi extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. Chi ospita nella propria casa, alloggio, aiuta, uno straniero non in regola, traendone un vantaggio economico illecito, assume una condotta assimilabile a quella degli scafisti, ai trafficanti di esseri umani, si va nel penale e si rischia di andare in carcere, oltre a pagare la multa. Così nei nostri microfoni il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, il generale di bregata Danilo Petruccelli, all'indomani del blitz effettuato dalle fiamme gialle, in stretta sinergia con i vigili urbani, l'ufficio immigrazione della Questura, il comune su disposizione del prefetto Francesco Russo, per verificare lo stato di illegalità sul territorio, al fine di frenare il fenomeno dell'immigrazione clandestina che ha portato ad identificare in otto immobili 68 extracomunitari di cui quattro risultati essere privi di permesso di soggiorno, evidenziando allo stesso tempo una situazione di affollamento nelle case in condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie. Mentre all'esame dei finanzieri la verifica delle regolarità fiscali delle abitazioni, occupate prevalentemente da cittadini originali del Bangladesh, di proprietà di tre persone fisiche ed una società ai quali sono riconducibili oltre 20 immobili anche in provincia di Salerno, il monitoraggio continuerà per verificare se ci sono altre situazioni simili sul territorio. Quello che sicuramente continueremo a fare è quello di monitorare la situazione per vedere se ci sono situazioni di questo tipo ripetute sul territorio. Intanto per quello che è emerso nel caso particolare si tratta di una situazione che coinvolge quattro proprietari di immobili, tre persone fisiche e una società ai quali sono riconducibili complessivamente oltre 20 immobili, non solo a Salerno ma anche nella provincia. Quindi la fase successiva dell'intervento della Guardia di Finanza è finalizzata proprio a verificare la regolarità dal punto di vista fiscale della locazione di questi immobili per vedere se effettivamente siano stati regolarmente registrati i contratti e per lì sono i canoni effettivamente percepiti, siano stati effettivamente pagate le imposte, cioè non ci troviamo di fronte a casi di affitto in nero. In questo caso una riflessione però si impone da parte di tutti coloro che possono trovarsi in questa situazione di questo tipo, cioè i proprietari di immobili. Bisogna tenere presente che la norma è molto rigorosa al riguardo. Quando si ospitano degli irregolari e sfruttando questa situazione si hanno dei vantaggi economici illeciti, quindi la posizione di questi proprietari è assimilata a tutti gli effetti a quella degli scafisti, i trafficanti di esseri umani. E la legge è molto rigorosa, diciamo si va nel penale, si rischia di andare in carcere, è prevista la reclusione fino a 4 anni, oltre che la multa superiore ai 15.000 euro. Servono azioni più concrete e incisive, soprattutto per i territori a sud della provincia di Salerno. E questo quanto richiesto ieri al Presidente Strianese durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale. Un Consiglio che vede l'ingresso di due donne, Pacchi Membole e Cledia Ferrara, ha 10 i nuovi ingressi, tra cui anche Giovanni Guzzo, consigliere di Novivelia, e Giuseppe Ruberto, consigliere di Corleto, Monforte, in rappresentanza delle aree più a sud della provincia. Ieri la prima seduta consigliare del neoeletto Consiglio Provinciale con gli interventi che sono stati incentrati prevalentemente sulle azioni di governo. Diverse le novità per questa nuova consigliatura, tra cui l'ingresso dell'Equoterosa. Evitato il ripetersi di un Consiglio tutto al maschile con il debutto di due donne, sia tra i banchi della maggioranza che dell'opposizione. Da ieri siedono in Consiglio anche Pacchi Membole, eletta con la lista del Partito Democratico, e Cledia Ferrara per Fratelli d'Italia. Alle due donne si aggiungono poi i volti nuovi di Giovanni Guzzo, Giuseppe Robustelli, Felice Santoro, Fausto Vecchio, Antonio Sagarese e Fausto De Nicola per la maggioranza, mentre per l'opposizione entrano in Consiglio anche il consigliere comunale di Corletto Monforte, Giuseppe Ruberto, e Dante Santoro, consigliere comunale di Salerno. Nel corso degli interventi che si sono succeduti durante la seduta di insediamento, è emersa chiara la volontà di puntare con maggiore attenzione alle esigenze delle aree più marginali della provincia, per una crescita unitaria dell'intero territorio, così come la necessità di individuare le reali esigenze dei territori a cui dare risposte concrete. Volontà e richieste arrivate sia dai banchi della maggioranza che dell'opposizione, dal consigliere Giovanni Guzzo del Partito Socialista e dal consigliere Giuseppe Ruberto, che al suo ingresso in Consiglio è stato designato come capogruppo per Forza Italia. Ruberto in particolare, nel suo intervento, ha voluto manifestare la disponibilità del gruppo a sostenere le azioni che la provincia metterà in campo, a patto che si rivelino incisive nel dare le risposte alle esigenze dei territori, lavorando ed impegnandosi nell'esclusivo interesse dell'intero territorio provinciale senza distinzione. Giuseppe Ruberto, auspicando che il percorso lavorativo sia di condivisione in un clima di armonia ed equilibrio, ha spiegato come il gruppo di Forza Italia è pronto ad ogni azione politica, amministrativa ed istituzionale, capace di affrontare nel migliore dei modi le criticità e i bisogni che affliggono quotidianamente l'intera comunità della provincia di Salerno. Anche il consigliere di maggioranza Giovanni Guzzo, eletto tra le file del Partito Socialista, ha chiesto di rivolgere massima attenzione alle esigenze dei territori, con particolare riferimento alle aree del Cilento e Vallo di Diano. Guzzo ha ricordato come l'intera provincia può crescere solo se cresce in maniera omogenea ed unitaria, pertanto laddove sono presenti maggiori criticità, è necessario investire di più per eliminarle. Potrebbe partire a breve la nuova programmazione Garanzia Giovani che vede la regione campagna destinataria di 220 milioni di euro derivanti dalla ripartizione dei fondi europei. Dopo il successo della prima fase, l'assessore regionale a lavoro Sonia Palmeri punta a ripetere il risultato, forte della consapevolezza che i giovani vogliono restare nella loro terra. Garanzia Giovani si è rivelato un'importante opportunità per tanti ragazzi che hanno creduto e credono nella loro terra, una misura di agevolazione all'ingresso al lavoro su cui punta la regione campagna che si sta già preparando per riattivare i progetti, forte anche del riconoscimento di circa 221 milioni di euro per la sua attuazione. 30 milioni in più affidati alla campagna nell'ambito della ripartizione dei fondi provenienti dall'Unione Europea per la seconda fase di Garanzia Giovani, che a breve potrebbe ripartire. La prima progettazione si è rivelata un successo, come sottolineato dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Sonia Palmeri, che ha voluto in particolare rimarcare come la richiesta di accesso alla progettazione sia stata molto forte, segno evidente che i giovani campani abbiano voglia di restare e credono nelle opportunità che la loro terra può offrire. Nel bienio 2018-2020, quindi, la regione avrà circa 220 milioni di euro da destinare alle misure dedicate a facilitare l'ingresso al mondo del lavoro per i ragazzi d'età compresa tra i 15 e i 29 anni, che potranno godere delle opportunità di formazione e lavoro direttamente nella loro regione di residenza, così come già accaduto nella prima fase. Garanzia Giovani è stato un programma europeo che ha dato alla regione campagna una grande visibilità in tutta Italia. L'impresa e gli imprenditori della regione campagna hanno risposto molto bene. Abbiamo realizzato oltre 31 mila assunzioni, di cui almeno il 50% sono a tempo indeterminato e tanti giovani hanno creato la loro azienda grazie al self-employment, che è una misura di autoimprenditorialità. Tanta formazione, apprendistato, è andato anche molto bene. Questa è la prova che c'è una regione che risponde. Ci sono dei giovani che vogliono rimanere, ma vogliono avere la possibilità e l'opportunità di rimanere accanto ai propri familiari, chiaramente ai propri amici. Quando ci sono le misure questo accade. 191 milioni interamente utilizzati. Ora possiamo soffrire di ben 221 milioni affidati alla regione campagna che saranno distribuiti su varie misure. Quindi partiremo quanto prima con le nuove misure di garanzia giovani e ci aspettiamo almeno lo stesso successo. Andiamo a Vallo della Lucania, dove si punta d'elevare a compagnia la tenenza della Guardia di Finanza. Istituire al più presto un commissariato di polizia ad Agropoli ed elevare a compagnia l'attuale tenenza della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania. Queste le prioritarie richieste del Procuratore Generale della Corte di Appello di Salerno, Leonida Primicerio, e del Procuratore Caporeggente della Procuratore della Repubblica di Salerno, Luca Masini, al termine della riunione tecnico-operativa tenutasi ieri presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, alla quale hanno preso parte anche il sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, Antonio Laudati, il Procuratore aggiunto della Procura di Salerno, Luigi Cannavale, il Procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, il Questore Vicario di Salerno e i Comandanti Provinciali di Guardia di Finanza e Carabinieri. Scopo del Summit? L'intensificazione del coordinamento tra le varie procure del distretto salernitano e le forze dell'ordine sul territorio, anche al fine di pianificare una strategia operativa che possa dare risposte investigative a medio e lungo termine ai cittadini, in modo particolare a quelli che vivono in contesti urbani che si stanno rilevando pericolosi sotto il profilo della criminalità. Preso atto anche della sottostima numerica delle forze provinciali in alcune zone del Cilento, i Procuratori Primicerio e Ricci hanno chiesto ai vertici delle forze dell'ordine la costituzione di un commissariato di polizia ad Agropoli e il passaggio a compagnia dell'attuale tenenza delle fiamme gialle vallesi. Accolgo con grande piacere la proposta di attivazione di un commissariato di polizia ad Agropoli, commenta il sindaco Adamo Coppola. Sebbene sono soddisfatto del lavoro svolto sul territorio da Carabinieri, Finanzieri e Polizia Municipale, non posso che accogliere con favore un ulteriore potenziamento dei presidi di sicurezza nella nostra città. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Bentornati in studio. Fortunatamente solo un grande spavento. Stiamo parlando del bus studenti che a Capaccio Pestum ha investito un bovino lungo la tratta di percorrenza. Autobus pieno di studenti investe una mucca rischiando di finire in un dirupo. Attimi di paura ieri a Capaccio Pestum dove un pullman di linea Stromillo che tutti i giorni da Ponte Cagnano conduce a Stio Cilento ha travolto ed ucciso un capo bovino vagante sulla strada provinciale 13A, la strada che dal Pietrale conduce al Capoluogo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14 quando il bus era colmo di studenti che dagli istituti della Piana del Sele e Capaccio Scalo fanno ritorno ai paesi interni del Cilento. L'autista pur procedendo a bassa velocità nel tratto in salita nei pressi dell'ex centro di urno non è riuscito ad evitare l'animale lasciato liberamente al pascolo dal proprietario. Il violento impatto frontale ha sfondato il parabrezza del pullman che si è arrestato di colpo grazie ad una manovra del conducente mentre la mucca morta sul colpo è finita in un dirupo. Panico tra gli studenti che affollavano il bus, che sono stati fatti scendere lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, i carabinieri forestale di Foce e Sele, gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi del caso, risalendo anche al proprietario del capo bovino. Sul posto sono giunti preoccupati i genitori di molti alunni, i quali hanno segnalato la frequente presenza lungo la strada provinciale 13A di animali vaganti come bovini ed equini. Domani a Sant'Arsenio l'inaugurazione dello studio di registrazione FNM Records, un nuovo tassello per l'associazione I Due Volti della Luna. Il taglio del nastro alle 17.30. Sant'Arsenio si appresta ad accogliere il nuovissimo studio di registrazione FNM Records, che consentirà ai giovani artisti di dare seguito ai loro sogni, aiutati dall'esperienza e dalla competenza di Gerardo Costa e Vittoria Benvenga, ideatori e promotori di questo nuovo progetto professionale. Domani, domenica 24 febbraio, a partire dalle ore 17.30, sarà inaugurata la FNM Records, che suggellerà il costante lavoro dell'associazione I Due Volti della Luna, a sostegno dei ragazzi talentuosi, desiderosi di emergere nel panorama musicale. Da anni, infatti, l'associazione presieduta da Gerardo Costa segue i giovani nel loro percorso di crescita artistica, sin dalle prime battute, con consigli utili per fare canto e musica. Li prepara e poi li accompagna alle prime esibizioni e alle prime esperienze di contatto diretto con il pubblico ed il palcoscenico. Mancava quel piccolo tassello, che domani renderà completo il lavoro dei Due Volti della Luna, l'inaugurazione della FNM Records. L'evento prenderà il via alle ore 17.30, con il taglio del nastro che avverrà presso la sede situata in via Annunziata a Sant'Arsene. A seguire, ci si sposterà presso il Teatro Amabile per la grande festa spettacolo. Sarà un pomeriggio importantissimo, anche grazie alla presenza di grandi maestri della musica, che collaborano attivamente con l'associazione. Si uniranno i festeggiamenti, infatti, Fabrizio Berlingioni, Luca Bechelli, Maurizio Nuti, Gianluca Rando e special guest star Alessandro Baldi. Andiamo ora a Buonabitacolo, dove parte domani il tanto atteso. Carnevale proseguirà poi nei giorni 3, 5 e 10 marzo. Il vandalismo non ha affermato l'associazione Il Sorriso della Solidarietà, che ha reagito con creatività e fermezza grazie al supporto di tutta la comunità. Non è riuscito a rovinare la festa tanto attesa del Carnevale a Buonabitacolo, chi la scorsa settimana ha incendiato il galeone di Peter Pan, uno dei carri allegorici preparati per la colorata manifestazione. Gli organizzatori e la comunità sono andati oltre l'inqualificabile gesto, reagendo con una rabbia creativa che li ha portati a realizzare il carro ex novo. Il Carnevale si farà parte domani, 24 febbraio, alle ore 15 da Piazza Gorà. Continuerà poi nei giorni del 3, 5 e 10 marzo. Tema scelto per questa edizione, la favola di Peter Pan. Maschere, balli, musica, un tripudio di colori e allegria invaderanno le strade del piccolo centro valdianese, grazie all'impegno che l'associazione Il Sorriso della Solidarietà, con la collaborazione di Capoeira Dance & Fitness, e il centro Iris profonde nell'organizzazione di quello che ormai è uno degli eventi più attesi e apprezzati del comprensorio. Consapevoli che da soli, dicono gli organizzatori, non si va da nessuna parte, ci teniamo a ringraziare i nostri collaboratori. Comune, Proloco, Iris, Capoeira, Le Sarte, la BCC, tutti gli artigiani del paese che ogni anno ci aiutano nella realizzazione dei carri. Un grazio di cuore a tutte le attività commerciali di Buonabitacolo e non solo che ci aiutano sostenendo il nostro progetto. Le sfilate, come ogni anno, attraverseranno l'intero centro storico, tanti carri allegorici interamente realizzati dagli artigiani, coloratissimi, costumi cuciti dalle sarte, oltre 200 e figuranti impegnati nelle coreografie e negli spettacoli. Come sempre, nelle intenzioni di chi la organizza, la manifestazione non è solo divertimento. Il Carnevale di Buonabitacolo è anche un momento di riflessione, aggregazione e sensibilizzazione all'accoglienza e all'integrazione. Non a caso, anche quest'anno, parteciperanno come figuranti i ragazzi del centro di urno Iris di Montesano sulla Marcellana e di diversi centri di accoglienza. Termina qui il nostro telegiornale. Buon proseguimento sulla nostra rete. Grazie. 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 Grazie.